Salve a tutti ragazzi ed eccoci con un nuovo video di Rainbow Ragazzi, oggi ho avviato una nuova serie, così mi è venuta stamattina raga Mi è venuta questa nuova idea di fare questa nuova serie, ovvero quella delle challenge su Rainbow Allora, oggi siamo ragazzi nello scudo challenge, ovvero in attacco prenderemo solamente operatori con lo scudo Quindi, blitz, montagne, blitz montagne, recluta chiaramente, con lo scudo Quindi mi raccomando, se vi piace questa serie raga, io sinceramente non l'ho mai vista fare a nessuno Cioè come una vera e propria serie, poi è chiaro che ognuno ha fatto per esempio solo scudo challenge, tutte queste cose qua Però avviare una vera e propria serie io non l'ho visto da nessuna parte Ecco questo gran bastardo, chi è? Black No, Thermite Allora, andiamo un attimo Io ho preso Kapkan Perfetto Ahah Hanno spaccato anche di qua Bene Questi sanno giocare raga Questi qua Questi qua sanno quel che fanno Perfetto Ecco IQ Vai dammi la telecamera IQ Nemici individuati Bene Allora io non mi affaccio per nessun motivo al mondo raga Perfetto 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 Uuuuuh Per poco Bastardo Vai raga passiamo a blitz Ed eccoci con blitz e quello fa fuori tutti E due Da dove? Da dove? Non lo so Eppure è tutto chiuso Vabbè Se ne sarà andato Comunque Vediamo se riesco a prendere Megamila Fatemi controllare se c'è qualcuno C'è nessuno? Vai Spero comunque che questa challenge Queste Queste robe di rainbow vi piacciono Queste nuove challenge Faremo un sacco di cose raga La Come si chiama? La polizia challenge La pistoletta challenge C'è Vi volevo riportare tanti video di questo genere Fatemi sapere se vi piacciono Perfetto Ma c'era quello di Che schifo Eh vabbè Quando mai Io sono un mezzo deficiente raga eh C'è Io so Sì io sapevo pure che dovevo controllare con il drone Ho detto vabbè Scialla E infatti Scialla ci ha ucciso Molto Molto tranquilla Comunque Frost Questa volta Ci proteggerà dal male Eee Trappalozza qua Ok Io me ne vado di sotto Io me ne vado di sotto Comunque raga Siamo in pubblica Non siamo in classificata Perché Perché Tutte queste challenge Le faremo su Bastardo Nooo Non lo dovevo individuare Quindi tutte queste challenge Le faremo su In pubblica Ehi Sei in una zona controllata dal nemico Lasciala subito Cambio caricatore La squadra d'attacco all'ostaggio Un'ultimo attaccante rimasto in vita Un operatore alleato rimasto Fermi Iscrivaluation Il Di Il Il Vai con la trappola Come la vedi Guardalo Guardalo Ed eccoci con la nostra Montagna Speriamo di fare Almeno una kill raga Anche perchè stiamo in fase 6-0-1 Fratello mio Ok l'ha fatto lui Allora sono di qua Quindi Come la vedi Ah pensavo mi lanciava il C4 Questo bastardo Non ha già la telecamera di valutina Ricarico l'arma Avanti Ehi Spara 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 valkyrie Valkyrie Che team raga Che team Vai entriamo Vai entriamo Entriamo Uuuu Ucciso con montagne Ucciso con montagne Ucciso con montagne Guardalo 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 che spettacolo Abbiamo vinto 7-0-1 raga E sono anche il migliore Cioè Cioè Un like meritato raga Un like meritato Meritato Raga Fatemi sapere nei commenti Se volete la continuazione Della serie Eeeh Int Da Vox Games E tutto Con questo mega Challenge E noi ci vediamo Al Prox video raga Eeeh